Una parata di stelle al centro l'arca di Spoltore per la 14esima edizione della festa dello sport giovanile tra i premiatori anche il pluricampione italiano di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone. Come è andata? È andata benissimo. Intanto premiare eccellenze Under 18 vuol dire premiare il futuro e quindi per me che sono un atleta paralimpico vedere questi ragazzi così giovani, così talentuosi con questo spirito, questa passione, questa determinazione è qualcosa di indescrivibile però lasciami fare una considerazione che mi emoziona ancora di più. Ho potuto notare che tra le eccellenze premiate quest'anno una percentuale molto rilevante era di atleti paralimpici. Credo che questo non sia un caso. Questo dimostra che l'atleta paralimpico nonostante la disavventura della vita che possa aver incrociato sa trasformare quella disavventura in grande opportunità, in grande energia, in grande determinazione e quindi oggi abbiamo premiato non solo tanto eccellenze dello sport ma anche persone che hanno dimostrato di avere tanto coraggio e permettermi di dire dalla mia esperienza personale che il coraggio può averlo solo chi ha provato la paura. Chi ha coraggio senza aver avuto paura è inconsciente e avere coraggio non significa non avere paura. Avere coraggio significa avere paura e crederci con tutto te stesso. Quei ragazzi lì vincono le paure, lo trasformano in coraggio e ci credono più di tutti quanti. Un esempio che arricchisce me ma penso sia un messaggio che arricchisca tutti. Oggi nella festa dello sport ha vinto la vita. Oggi ha vinto la vita, lo sport è vita. Io ripeterò all'infinito che entrare in un campo da tennis o in qualunque altro campo da gioco è metafora della vita. Io quando entro in un campo in qualsiasi parte del mondo porto la sfida contro le mie patologie che ad oggi sono degenerative senza cura ma il senza cura nello sport non c'è come nel tennis se non c'è un fischio finale. Fino all'ultima pallina te la giochi. Io farò la stessa cosa con le mie malattie. Fino all'ultima pallina della mia vita me la giocherò contro le patologie e tutti questi ragazzi ci insegnano a non mollare mai.